Il Museo del Cenedese custodisce la collezione intitolata l'immagine della Resistenza, nata in occasione della mostra Libertà e Resistenza, realizzata nel 1985 per ricordare il quarantesimo anniversario della Liberazione. Furono numerosissimi gli artisti che allora aderirono all'invito a partecipare all'esposizione e a donare poi una propria opera al Comune di Vittorio Veneto. Tra di loro Renato Guttuso, Arnaldo e Gia Pomodoro, Tony Benetton, Augusto Murer, Emilio Vedova, Ernesto Treccani e molti altri. Una scelta di questa collezione è esposta qui nella Sala 900 del Museo del Cenedese ed è introdotta da un brano di Luigina Bortolatto tratto dalla presentazione di quella mostra e dalla motivazione della medaglia d'oro conferita alla città di Vittorio Veneto proprio per il suo impegno durante il periodo della Resistenza.